Proprio alle soglie del paradiso esiste un luogo chiamato il Ponte dell'Arcobaleno. Comincia proprio così la meravigliosa leggenda del Ponte dell'Arcobaleno che ci dona la speranza che ci sia un paradiso per i nostri amici a quattro zampe dove possono essere felici, spensierati e correre liberi. La perdita del nostro compagno di vita è una vera e propria esperienza di lutto, un trauma che lascia un vuoto immenso nel cuore e nella nostra mente. Affrontarlo da soli è sicuramente molto complesso, per fortuna c'è qualcuno che può accompagnarci in un percorso doloroso e difficile proprio come questo e toglierci magari anche qualche preoccupazione. Una persona di questo tipo potrebbe essere l'ospite di questa sera, ovvero Emanuele di The Bridge Pet Funeral Service. Benvenuto a Pronto Vet! Grazie, buonasera a tutti. Allora Emanuele, partiamo un po' da dove nasce tutto per arrivare a spiegare cosa fai oggi. Nasce sicuramente da una vocazione per gli animali. Qual è la tua storia personale? Allora, la mia storia personale nasce tanti anni fa. Ho sempre avuto il sogno di avere un animale che mi è stato sempre fondamentalmente proibito. Fino a che poi è arrivato il mio cucciolotto a casa. Che si chiama? Chiro. E da lì mi è cambiata totalmente la vita. E ho cominciato sin da subito a fare un corso di toilettatura per poi ad arrivare ad aprire un negozio di toilette e pet shop. E da lì tutto nasce e prosegue con l'agenzia funebre per animali e quant'altro. Arriviamo quindi al 2015-2016, un anno importante perché apre proprio The Bridge, Pet Funeral Service. Servizio funebre per animali. Solo e esclusivamente per animali. Partiamo però proprio dalla scelta del nome. Perché ci richiama qualcosa questo The Bridge, il ponte? Proprio perché il ponte si dice che gli animali dopo la loro vita vadano sul ponte del loro cobaleno. E quindi per questo motivo appunto ho dato questo nome. Nome appunto che richiama il ponte. Un nome azzeccato sicuramente. Sì, diciamo è stato fatto appositamente per questo motivo. Qual era la mission che avevi all'inizio? Perché hai voluto proprio fondare questa agenzia funebre? Perché mi arrivavano tanti racconti, mi arrivavano tante richieste, sentivo clienti della toletta, clienti del negozio che mi raccontavano storie, mi raccontavano episodi. Da lì ho cominciato un attimino a indagare, a prendere un po' di informazioni e quant'altro. Per poi arrivare a istituire questa realtà. Che oggi è una realtà relativamente grande. che accompagna i nostri pet anche dopo la loro vita. L'accompagna e accompagna anche gli adopter. In un percorso assolutamente difficile a livello emotivo, a livello personale. Perché comunque ci si ritrova all'improvviso senza un amico così caro come il nostro amico a quattro zampe. E quindi c'è anche un rapporto da tenere con la persona che in quel momento sta effettivamente passando un momento brutto. Assolutamente. Quella cosa più, diciamo, l'animale senza vita ormai è un animale senza vita. Chi ha il dolore più grande in quel momento è proprio l'adopter. Noi il lavoro più difficile appunto è lavorare con l'adopter. Lavorare con l'adopter ma non perché fanno richieste particolari o quant'altro. Perché comunque sia dobbiamo accompagnarli in un periodo particolare, in un periodo di tempo particolare dove li andiamo a assistere. Possiamo dire che è un po' quello che succede anche con noi umani, no? Perché quando viene a mancare una persona abbiamo il giorno dopo questa impellenza di fare il funerale, quindi occuparci di tante cose di cui magari in quel momento non vorremmo proprio preoccuparci. Perché sto già affrontando un momento difficile, adesso mi devo mettere lì seduta al tavolo, decidere, fare delle scelte impegnative per tutti. e non vorremmo farlo, non vorremmo affrontarlo in questo momento. Come aiutate le persone a cercare di fare tutto nel modo più semplice e togliere qualche preoccupazione? Allora, nel mio caso, nel caso della mia azienda, noi ci occupiamo a 360 gradi di tutto, ok? Quindi dal ritiro fino alla riconsegna o comunque sia di tutte le pratiche che vanno fatte, ok? Quindi cerchiamo di accompagnare in questi momenti l'adopter nel modo più sereno possibile e cerchiamo di non farlo preoccupare a 360 gradi. Ci occupiamo di tutto quanto noi. In questo modo abbiamo trovato riscontro e abbiamo visto appunto che molte persone ci dicono grazie appunto di questo perché riusciamo ad accompagnarli in questo momento e ci occupiamo noi di tutto a 360 gradi. Non è sicuramente un lavoro semplice. Non è un lavoro per tutti, diciamo. Però poi magari c'è anche la soddisfazione di riuscire ad accompagnare in maniera dolce il pet che è venuto a mancare in questo momento. Sempre con amore e dignità. Sempre con amore e dignità perché nasco con un negozio di toilette e pet shop quindi fondamentalmente amo gli animali, io li ho sempre voluto e quindi quello che faccio lo continuo a fare giornalmente in prima persona. Una cura a 360 gradi degli animali. Ma The Bridge opera in che modo sul territorio? Con il privato ma anche con le cliniche? Cosa fa nello specifico? The Bridge lavora fondamentalmente ad oggi con tutti. Gestiamo dei comparti funerari di alcune cliniche veterinarie. Lavoriamo dietro alcune agenzie funebri su Roma e non. Lavoriamo con il privato che ha esigenza di appunto dei nostri servizi e ci chiama direttamente. Quindi lavoriamo anche qui a 360 gradi. E ti può chiamare 24 ore su 24 perché hai una reperibilità incredibile. Incredibile? Assolutamente sì. Quasi sempre, al 99% delle volte rispondo io al telefono e sono sempre disponibile a venire incontro alle esigenze di ogni cliente. Perché ogni cliente, se così lo vogliamo chiamare, ma lo chiamerei più adopter, ogni adopter ha le sue esigenze. Certo, non possiamo sapere quando arriva la brutta notizia, quindi è importante avere una reperibilità costante e garantire questo. C'è anche questo servizio a domicilio, quindi andare direttamente a casa dell'adopter. Però utilizzi anche delle accortezze particolari e molto sensibili. Quali sono? Accortezze particolari, nel senso ci presentiamo, comunque sia, non diamo modo ai conculini del palazzo di far notare determinate cose. Facciamo in modo che tutto avvenga nella massima riservatezza. Questo per l'adopter, che appunto ci chiama, ma anche per una, come possiamo dire, un'eleganza e una dignità nei confronti dell'animale stesso. E quindi ecco, cerchiamo di prendere spunto ogni giorno per novità o cose varie, un trasportino, un qualcosa che comunque sia, ci possa aiutare a portare avanti il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Direi trasparenti ma presenti. Trasparenti ma presenti, assolutamente sì. È molto importante questo. Emanuele, ma insomma vi occupate di tutti i tipi di animali? Cani, gatti, ma anche esotici, non so, come... Sì, allora, solitamente le richieste più comuni sono cani, gatti, conigli... Gli animali che abbiamo abitualmente in casa, ecco. Però ci sono capitate anche richieste particolari. Per esempio? Per esempio un orso. Un orso? Un orso, sì. Qualche anno fa una signora mi chiamò e mi disse che gli era morto un orso. Particolare, quantomeno particolare questa situazione. Molto particolare, sì. Pensavo inizialmente fosse uno scherzo, invece poi abbiamo appurato con dei veterinari e quant'altro con la forestale e le varie procedure che bisogna fare in questi casi che effettivamente erano una situazione vera e tantomeno particolare e anche molto particolare. e quindi anche lì abbiamo dato supporto per accompagnare, diciamo, questa perdita dopo tanti anni di questa signora. Meritano tutti un trattamento così importante e sensibile come quello che fate voi. Invece, per concludere, ecco, c'è stato un caso particolare, una storia che ti ha colpito in questi anni di esperienza? Una storia particolare. Diciamo che ogni storia è a sé, ogni richiesta è a sé, però nel pensarci sì. C'è una storia che mi ha colpito e ancora oggi la ricordo come se fosse ieri e penso che sarà difficile da dimenticare. La storia di Billy, ancora oggi mi viene la pelle d'oca. Billy era un cane, un similcolli, bianco, con delle pezzature marroni, ancora lo ricordo, che si presentò in toletta e aveva 13 anni. Per 13 anni la sua adopter si è sempre presa cura, fino a che poi non ha avuto una bambina. Nel frattempo io avevo aperto la toletta e me l'ho portato in toletta. Da lì mi sono cominciato a prendere cura di lui, anche settimanalmente, anche solamente per una spazzolata e quant'altro. Fino a questo dal 2014 fino al 2018, più o meno, dove nel 2018 mi arriva la chiamata di Deborah, la sua adopter, dove mi comunicava che Billy non c'era più. In quel caso la Debrige già era avviata e abbiamo accompagnato Billy anche sul Pontellor Corbaleno. Quindi praticamente un percorso completo, no? L'hai visto quasi crescere. Sì, nel senso no, l'ho preso in tarda età, però diciamo l'ho accompagnato durante la vita e poi anche dopo. Fino all'aldilà, fino al Ponte dell'Arcobaleno. È bello anche vedere la tua emozione nel raccontare questa storia. È una cosa che mi rimarrà sempre perché è una cosa bellissima. Quindi amare un animale non tuo, quindi accompagnarlo con dignità durante la vita e poi continuarlo a fare anche dopo. Emanuele, grazie. Per entrare in contatto con la tua agenzia, con te direttamente, cosa dobbiamo fare? Tranquillamente potete scrivermi un'email o tranquillamente potete chiamare lo 06 97 85 97 97. Sono sempre reperibile anche solamente per un'informazione o per un dubbio, una domanda o qualsiasi cosa. Sono sempre disponibile. Grazie mille Emanuele di The Bridge Pet Funeral Service per tutte le attenzioni che riserva coloro che appunto vivono un lutto. Grazie mille Emanuele. Grazie a voi.